Ancora caos alla Banca di Credito Cooperativo di Verbicaro. Il Consiglio di Amministrazione convocato alle 22 di ieri è andato deserto. Come era stato per la seduta del 2 giugno scorso, all'esterno dell'Istituto di Credito molti soci si erano radunati in attesa di conoscere l'esito di un braccio di ferro che rischia fortemente di portare la banca al commissariamento. La seduta di ieri però rispetto a quella precedente, durata quasi 10 ore, di fatto non si è svolta e i consiglieri presenti non hanno potuto neanche accedere agli uffici per l'assenza del direttore. Un caso spinoso che viene alimentato da voci più o meno incontrollate e che troveranno eventuale fondamento anche per l'interessamento della magistratura. Alcune di queste voci parlano di un verbale redatto dai consiglieri che si oppongono alla presidenza di Arturo Riccetti con il quale dovrebbero sfiduciato dichiarandone la decadenza. Riccetti da parte sua ha confermato di aver presentato quale era di falso nei confronti di questo ipotetico documento. Inoltre questa mattina lo stesso Riccetti ha protocollato il verbale della seduta del consiglio di amministrazione di ieri sera dichiarando l'assenza del numero legale. Un documento che sarà sottoposto agli ispettori della Banca d'Italia presenti in questo periodo alla BCC di Verbicaro per verifiche di routine. Una situazione molto delicata che anche ieri sera ha rischiato di degenerare. I soggi che hanno scelto Riccetti come presidente vedono la loro volontà delegittimata da contrasti interni che sicuramente stanno influendo negativamente sull'immagine della banca. Grazie a tutti.